La mia battuta di caccia al dentice inizia al buio, con la partenza da un porto e la navigazione veloce verso una secca a largo della costa. Ma perché tanta fretta? Approfitto del viaggio per rispondere a questa domanda ed esporvi la mia teoria sul comportamento del dentice. Il sorgere del sole, come il tramonto, è un momento importante nella vita di tutti i pesci. Pochi minuti prima dell'alba i predatori notturni si ritirano nei loro rifugi, mentre quelli diurni escono affamati dal torpore vigile nel quale hanno passato la notte. Il dentice è un pesce diurno. Nell'oscurità resta appoggiato sul fondo contro una parete di roccia o un ciuffo di posidonia, ma al primo chiarore lo stomaco vuoto lo spinge alla disperata ricerca di cibo. Lo stomaco del dentice è piccolo se si confronta a quello di altri predatori come il grongo o la cernia, ma può contare su una digestione veloce. Così è costretto ad alimentarsi in continuazione. Con le prime luci del giorno, insieme alla spinta alimentare, si attiva un processo complesso nell'occhio di tutti i pesci. Devono abbandonare la visione notturna per quella diurna. La loro retina è più raffinata di quella dell'occhio umano. I fotocettori impiegati nella visione notturna all'alba affondano nella guaina di uno strato epiteliale scuro venendo schermati, mentre quelli per la visione diurna sono ritirati dallo stesso strato per essere impiegati nell'ambiente diventato più luminoso. Questi movimenti retinomotori non sono istantanei, ma impiegano una ventina di minuti per completarsi. In questo periodo, la vista del pesce non è al massimo dell'efficienza e le sue difese sono affidate principalmente ai sensori dell'apparato acustico laterale. Ogni predatore animale conosce a fondo le debolezze nell'impianto difensivo delle sue prede, così il dentice, che gode di una vista superiore ad altri pesci, in ragione di una disposizione particolare degli occhi nella scatola cranica, all'alba, nel momento di stallo dell'impianto visivo, ha un'attività di caccia frenetica. Passa rasente le rocce ed attacca le prede in controluce. Ma se all'alba le condizioni di penombra di un fondale marino avvantaggiano il dentice nei confronti del pesce azzurro, un altro cacciatore del mare, dotato di un'acuità visiva superiore, lo insidia a sua volta con lo stesso successo. È il pescatore subacqueo. Le grandi macchie scure sul fondo, ancora scarsamente illuminato, mimetizzano la forma del suo corpo immobile. Agli occhi del nostro sparide, la sagoma del cacciatore potrà apparire come una semplice spaccatura nella roccia. Anche la discesa verso il fondo, forse la fase più critica dell'immersione, perché la figura umana si staglia in movimento nella colonna d'acqua, si svolge in condizioni di luce scarsa. Questa è la scena che potrà apparire a un cacciatore mattiniero quando sceglie la secca giusta. Grazie. Grazie a tutti. La caccia al dentice inizia sempre in questo scenario. Sono sulla verticale di una secca a largo della costa. Sul fondo troverò le condizioni di luce ideali per le prime poste. Nella mattinata visiterò 4 o 5 risalite del fondo dove nel passato ho già incontrato un gruppo di dentici, ma le prime riscese saranno le più proficue, quelle che mi porteranno vicino agli esemplari più grossi del branco. In tutte le tecniche di caccia, terrestre o subacquea che siano, la prima regola è trovarsi nel posto giusto e nel momento giusto. Le riprese subacquee all'alba fanno apparire il palcoscenico di caccia meno luminoso di quanto non sia nella realtà, dando l'impressione di trovarsi di fronte a un ambiente tetro. In verità il nostro cervello interpreta i segnali inviati dall'occhio in maniera più definita e luminosa della videocamera. Così questo branco che dalle immagini sembra composto di figure evanescenti, ai miei occhi invece era abbastanza nitido. In questa prima scena di caccia, l'incontro con i dentici ha offerto diverse opportunità di tiro durante il carosello del branco vicino alla mia postazione d'attesa. L'abitudine di girare intorno al subacqueo è caratteristica anche di altri sparidi. Perché? I pesci vedono quando gli oggetti appaiono o più chiari o più scuri dello sfondo sul quale si stagliano. La luminosità del fondale dove siamo appoggiati varia in funzione della direzione dalla quale il pesce lo osserva. Infatti spostandosi cambia l'angolo dei raggi luminosi riflessi dallo sfondo. Per questa ragione ottica il dentice compie sempre ampi giri intorno al nostro appostamento. Cerca il punto di osservazione che gli garantisca il miglior contrasto. Il branco va inquadrato come un'entità unica. Più occhi di uno stesso soggetto indagano sulla presenza estranea da angoli visuali diversi. Questo fenomeno obbliga il pescatore a tenere d'occhio contemporaneamente tutto il branco per controllare le intenzioni di ogni singolo pesce. Ecco la ragione del mio spirito mattiniero. La ridotta luminosità del fondo all'alba come al tramonto annulla il contrasto tra la muta subacquea e il substrato sul quale sono appoggiato. Questa seconda scena di caccia inquadra qualche minuto dopo lo stesso cappello sul quale è avvenuta la cattura precedente. Il rumore prodotto dal tiro, il dibattersi del pesce e la mia risalita hanno allontanato il branco che si è sparpagliato sul territorio in piccoli gruppi dal comportamento più accorto. Solo un giovane esemplare è caduto nel tranello del mio aspetto. Ma in cosa consiste la tecnica dell'aspetto? Su quali principi si fonda? I teleostei, pesci caratterizzati da uno scheletro osseo, sono miopi a causa della forma sferica del loro cristallino, lente impiegata dall'occhio per mettere a fuoco i raggi luminosi prima che giungano sulla retina. A causa di questo limite fisiologico sono costretti ad avvicinarsi a pochi metri di distanza per qualificare il bersaglio visivo. La ridotta trasparenza dell'ambiente subacqueo, se ha limitato l'evoluzione della vista degli esseri acquatici, ha favorito nello stesso tempo lo sviluppo di un vero e proprio sesto senso, il sistema acustico laterale. Tramite quest'organo il pesce percepisce le vibrazioni e gli espostamenti d'acqua provocati da un altro animale anche a decine di metri di distanza, ad una portata ben superiore alla vista. La pesca all'aspetto sfrutta la sostanziale differenza tra gli impianti sensoriali dell'uomo e dei pesci, che da lontano possono percepire i rumori prodotti dal pescatore subacqueo, ma sono costretti ad avvicinarsi per definire visivamente l'intruso. Mentre l'uomo, anche se sott'acqua è pressoché sordo e non dispone di un organo di percezione a distanza, vanta un impianto visivo più acuto e soprattutto un cervello che interpreta con intelligenza superiore i segnali inviati dall'occhio. Resta da spiegare perché il dentice tende ad avvicinarsi al pescatore immobile sul fondo se lo ha già individuato da lontano. Quale impulso lo guida? Il comportamento dei pesci è gestito da schemi elementari, evoluti in centinaia di milioni di anni, che si esprimono attraverso una serie di condizionamenti. Sono stati selezionati dall'opportunismo alimentare, dall'istinto riproduttivo e da quello di conservazione della specie. Uno di questi riflessi obbliga il pesce a sorvegliare costantemente il proprio territorio. Lo schema di controllo poi è molto semplice. Da lontano il pesce localizza la sorgente di un rumore e si avvicina per definirlo con la vista. Il controllo acustico laterale, infatti, non basta a stabilire la natura dell'intruso. I rumori sono onde sonore che sott'acqua si riflettono sulle rocce, si diffrangono, cioè esplodono sui bordi degli ostacoli, e possono entrare anche in interferenza, vale a dire ostacolarsi tra di loro, soprattutto se la posizione della sorgente sonora è celata tra le rocce. Osservate il comportamento del dentice che tra poco si avvicinerà al mio appostamento. Si porta in alto nella colonna d'acqua, girando il corpo da una parte e dall'altra, per individuare il punto dal quale partono i messaggi sonori. Con due sensori acustici distanziati tra loro, cercherà di allineare due diverse direzioni del segnale. Nel punto di convergenza troverà la sorgente del rumore. Il dentice colpito ha una reazione violentissima, che può compromettere la cattura. Nel dibattersi può lacerare la carne, infilarsi in una spaccatura e facendo leva contro le rocce sfilarsi l'asta dalla ferita. In questo caso cerca rifugio nella posidonia, ma le foglie, sagola ed asta si aggrovigliano immobilizzando il pesce. La battuta al dentice richiede una strategia fatta di molti spostamenti. Dopo una decina di immersioni, se il branco che di solito frequenta una secca non è venuto a controllare, è inutile insistere, conviene cambiare posto. Scelta la zona da battere, le discese vanno distanziate una ventina di metri una dall'altra, perché il raggio di rilevamento acustico laterale del dentice è molto ampio, una quarantina di metri circa. La grandezza dell'area sulla quale un pesce esercita il controllo territoriale è determinata dalla portata dei suoi sensi. Quando atterriamo sul fondo, spesso siamo circondati da piccoli pesci come triglie o alcuni labridi, i cui sensi hanno un raggio d'azione di pochi metri. La perca o lo sciarrano, per esempio, dimostrano la propria territorialità, andando a mordere la punta dell'asta del fucile solo se atterriamo nel raggio di un metro circa dalla loro posizione. Sono pesci che razzolano in aree ristrette, hanno occhi adattati per vedere a distanza ravvicinata. Nel caso del dentice, per attivare il riflesso del controllo con la nostra discesa verso il fondo, dobbiamo intersecare la sua area territoriale, quindi nella fase di ricerca in superficie, le immersioni devono essere programmate come su una scacchiera, per influenzare la maggior superficie possibile di una secca. Il nocciolo della pesca d'aspetto, però, è fino a che punto il pesce deciderà di avvicinarsi al subacqueo e quali fattori ne influenzano le scelte? Seguiamo allora un'azione di caccia per studiare l'interazione tra il pescatore e un branco di dentici. Sono giunti da molto più lontano della portata della vista, puntando in massa la postazione d'attesa. Del gruppo solo uno si è portato quasi a tiro. Purtroppo la posta risulta scoperta e illuminata, e i dentici preferiscono passare vicino allo strapiombo. Nessuno sale a controllare il cucuzzolo della secca, con un comportamento che verificheremo anche in altre situazioni simili. Dopo queste scene possiamo già fissare una prima serie di considerazioni. Quando il pescatore subacqueo entra nell'area di un gruppo di dentici, anche se attiva nei pesci il riflesso del controllo territoriale, non tutti hanno lo stesso impulso ad avvicinarsi, anzi, la maggior parte si tiene a debita distanza, aspettando che uno di loro compia un'incursione più da vicino. Il condizionamento reciproco nel branco, perciò, è diretto ad una maggior cautela dei singoli pesci. Nel caso invece dell'incontro con esemplari solitari, l'atteggiamento di controllo è più diretto e il pesce si avvicina con maggiore determinazione. Più occhi venono meglio di uno, e appartenere ad un branco offre sicuramente la possibilità di un'osservazione più efficiente. Cosa deve fare il pescatore subacqueo appena raggiunge il fondo? La tecnica dell'aspetto, se dal punto di vista teorico sembra offrire poche varianti, in realtà può essere applicata in vari modi e con diversi risultati. In questa scena è particolarmente evidente il mio modo di interpretare questa tecnica, che non a caso ho chiamato aspetto dinamico. Vediamone in successione le singole fasi. Al termine dell'immersione mi sono appoggiato dietro una cresta di roccia. Dopo pochi secondi si avvicina un branco di dentici. I pesci però, dopo avermi puntato, non si portano a tiro, ma girano intorno alla postazione. Li seguo col fucile tenendoli sotto mira e lentamente mi sposto fino a trovare una nuova posizione. Mi infilo in un canalone e in questa nuova posta finalmente arrivano alla distanza giusta. Anche in questo avvicinamento i dentici prima sono saliti nella colonna d'acqua per localizzare la mia posizione, poi sono scesi puntandomi con decisione. Il primo appostamento aveva attivato nei dentici il riflesso del controllo territoriale. Il mio corpo però si trovava troppo scoperto rispetto al loro punto d'osservazione. Questo ha frenato la corsa di avvicinamento. Nella pesca l'aspetto è fondamentale individuare un buon nascondiglio sul fondo. Non esistono appostamenti ideali, dipende da quale direzione arriverà il pesce. Di solito in una morfologia del terreno che offra un'ampia visuale di perlustrazione, si sceglie una protuberanza di roccia che nasconda frontalmente la nostra sagoma nella direzione d'arrivo del pesce. Ma prevedere da quale parte si accosterà è un'impresa impossibile. Il dentice potrà arrivare di fianco o addirittura dai nostri piedi e la copertura iniziale non servirà più a nulla. A velocità non aggressiva, nel corso della stessa apnea, allora conviene spostarci in una nuova posizione, indirizzando lentamente il braccio nel nuovo allineamento di tiro. Uno spettatore potrebbe obiettare perché non posizionarsi subito nella nicchia più bassa e nascosta nel terreno. Una posizione che non offre un'ampia visuale è improduttiva. È tassativo avvistare il dentice da lontano quando non ci può ancora vedere, altrimenti non potremo più muoverci, neppure per impostare l'allineamento del fucile. In questa ripresa da lontano del mio appostamento si nota come l'obiettivo della videocamera, più acuto dell'occhio del pesce, distingue appena i movimenti del corpo. Si intravedono solo i riflessi luminosi sui vetri della maschera. In effetti, a pesce ancora lontano, il contrasto luminoso tra la muta e il fondo è minimo. La miopia fisiologica dei teleostei non consente di individuare i piccoli spostamenti del subacqueo, come la rotazione della testa o lo spostamento del braccio. La teoria dell'immobilità assoluta, cara ai primi pescatori d'aspetto, quindi non ha una valida motivazione scientifica. Se ne sono già accorti molti degli attuali pescatori subacquei che appena arrivati sul fondo hanno imparato a muoversi con cautela, alcuni seguendo il principio di posizionarsi a qualche metro di distanza dalla verticale di atterraggio, dopo un breve percorso in orizzontale, altri semplicemente girando lentamente la testa e il busto per localizzare la preda prima di immobilizzarsi al momento del suo arrivo. La tecnica dell'aspetto dinamico non si esaurisce nella ricerca della nicchia d'appostamento più opportuna nel corso di un'apnea, ma prosegue in superficie con gli spostamenti mirati a portarsi sulla verticale di un nuovo possibile nascondiglio. Girando la testa in fase di perlustrazione, di solito scopriamo nella conformazione del terreno dei punti che suggeriscono la scelta dell'appostamento successivo. In un fondale che non si conosce o che non si riesce a distinguere dalla superficie, l'appostamento non si può programmare. Solo negli ultimi metri della discesa, con un'occhiata, si sceglierà la posizione più opportuna. La casualità del punto d'atterraggio può favorire o no la cattura dell'eventuale dentice, come è se visto nell'incontro con quel branco che sfilava lungo lo strapiombo. Giunti sul fondo, se non troviamo ripari, ma solo un piano di roccia liscia, le probabilità di cattura si riducono drasticamente. Questa componente casuale deve essere sempre tenuta in considerazione, perché molte catture nascondono il segreto di un pizzico di fortuna. fortuna è anche trovare dei pesci che stazionano tranquilli davanti al punto di attesa. La situazione di un pacato controllo territoriale da parte di alcune specie, come in questo caso, rassicura sempre un predatore qual è il dentice, opportunista e attento al movimento di tutta la fauna del suo territorio. Quando incontro un dentice isolato, ho l'intima convinzione di poter giungere facilmente alla sua cattura. Il solitario è un pesce più vulnerabile di quello che viaggia in branco, perché non è soggetto al condizionamento dei cospesifici più sospettosi. Avrete notato come mi sia spostato incontro al pesce nel timore che passasse lontano oltre le piccole creste di roccia davanti al mio appostamento. Queste ultime due catture sono avvenute con il sole ormai alto. Si notava dalla luminosità delle immagini e non è un caso che abbia incontrato e catturato solo giovani esemplari, facili da ingannare anche nella luce abbagliante della tarda mattinata. Torniamo nella penombra dell'alba e vediamo se è ancora così facile con gli individui adulti. Le ventennali osservazioni sulla condotta dei dentici mi hanno portato alla convinzione che questi animali siano dotati di una buona memoria corta, ma difettino in quella di lungo periodo. Alla fine della stagione invernale, trascorsa in misteriosi siti profondi, quando tornano a colonizzare le secche, questi sparidi non conservano alcun ricordo del pescatore subacqueo e le prime volte si avvicinano all'aspetto con una fiducia disarmante. Nell'arco di una stagione estiva a volte ho l'opportunità di rincontrare lo stesso branco dopo una cattura. Nei successivi contatti il comportamento si dimostra sempre visibilmente cambiato. Sono giunto così alla conclusione che i dentici riescono ad associare al nostro rumore colporeo quello del tiro di un fucile. Anche se saranno documentate alcune apnee con tempi superiori a due minuti, raggiunte più che altro per motivi tecnici di ripresa subacquea, non sono necessarie lunghe attese sul fondo per concretizzare l'incontro con un dentice. Facendo riferimento ad un'immersione a 25 metri di profondità, un'apnea di un minuto e mezzo nella maggioranza dei casi è più che sufficiente per avere il pesce a tiro. Attese più lunghe sono veramente inutili. Conviene spostarsi in superficie ad una decina di metri di distanza e ripetere l'immersione. In una zona conosciuta vale la pena ripetere gli stessi appostamenti che nel passato hanno già avuto successo, con l'identica polarità nella disposizione del corpo sul fondo. Ma un punto dove mi sto emergendo, per esempio, ogni volta mi apposto allo stesso modo, alla base dello scalino dove la roccia diventa pianeggiante. Questo tipo di posta si rivela sempre vincente sia nei confronti del dentice sia riguardo all'orata. Evidentemente è un punto di passaggio obbligato un crocevia nei misteriosi tragitti che queste due specie compiono sul fondo del mare. Il tiro è alto. Confrontando i due fermo immagine prima e dopo lo sganciamento dell'asta si nota come l'effetto del momento di rinculo sia di sollevare la testata mentre l'asta vi scorre dentro, deviandone la traiettoria. Pochi minuti dopo scendo nello stesso punto per controllare la situazione. Non avevo l'illusione di trovare il pesce ferito. Per esperienza so che il dentice disarpionato difficilmente si rifugia in tana ma preferisce allontanarsi definitivamente. Nel caso la ferita sia mortale si può ritrovare appoggiato sul fondo nel raggio di 50-100 metri dal punto di ferimento. Se invece sale nella colonna d'acqua l'espansione della vescica natatoria lo può portare addirittura a galleggiare sull'acqua come si è verificato una volta su pesce colpito da me ed un'altra volta su un tiro di uno sconosciuto benefattore. L'intento dell'immersione era scoprire se altri esemplari si erano sparpagliati sul territorio. Il dentice difficilmente si aggrega in gruppi che superano i 50 pesci per le loro strategie di caccia infatti non è producente formare branchi più numerosi di conseguenza si possono incontrare in aree ristrette più assombramenti di taglie diverse. Questo avvantaggia la nostra tecnica di pesca perché con brevi spostamenti in una mattinata possiamo entrare in contatto con vari branchi ed avere più opportunità di cattura. Come avevo previsto c'è un altro esemplare della stessa taglia. Anche in questo caso il tiro si risolve negativamente. Il dentice si libera dell'asta dietro un dosso senza la visuale per capire cosa sia successo. Nella ripetizione del tiro al rallentatore si nota lo stesso inconveniente della scena precedente. La fine di agosto dello scorso anno si è verificato un evento strano per la Sardegna. L'alta pressione e una forte percentuale di umidità nell'aria hanno favorito la formazione di un vasto banco di nebbia. Questa mattina non è possibile esplorare le secche a largo e mi immergerò su alcune risalite vicino alla costa. per localizzare le zone di pesca ho sviluppato una particolare memoria visiva per gli allineamenti a terra delle secche più importanti e con l'ecoscandaglio poi arrivo a determinare il punto esatto dove calerò l'ancora. Mi potrò sembrare un troglodita della pesca subacquea ma non uso il GPS. L'uso sistematico dell'ecoscandaglio inoltre è molto utile per scoprire secche nuove quelle che non sono segnate sulle carte nautiche. Ogni anno posso dire di aggiungere alle mie conoscenze qualche zona magari cappelli di roccia molto piccoli dove non si possono fare che un paio di discese ma a colpo sicuro. Identici prediligono gli scalini rocciosi mi girano intorno spingendo i banchi di pesce azzurro contro le pareti verticali avanzando ventaglio poi compiono ripetuti scatti dentro la palla di pesce che si è formata. La mia ricerca quindi è rivolta ai salti nella battimetria del fondo mi apposto in prossimità di uno scalino per sfruttare questa sua tecnica di caccia. Posizionarsi sulla parte alta o bassa del gradino è sempre stata una scelta difficile da prendere in alto abbiamo una migliore visuale e riusciamo ad individuare prima la direzione di arrivo del pesce in basso una vista ridotta ma riusciamo a nascondere meglio le vibrazioni corporee. Quando l'appostamento è troppo in vista e senza copertura come in questo caso il dentice non si fida ad avvicinarsi la velocità rallentata con la quale si accosta mi informa che l'impulso al controllo territoriale è debole la virata secca e nervosa che la mia posizione è stata scoperta le intenzioni le intenzioni del pesce si esprimono attraverso il linguaggio animale del suo comportamento che si impara a decifrare con l'esperienza delle occasioni perdute nell'aspetto dinamico bisogna diventare abili osservatori ogni movimento del dentice esprime cosa hanno percepito i suoi sensi sono queste mosse che devono attivare i nostri riflessi solo un equilibrio interiore perfetto e un'assoluta concentrazione portano alla fusione tra le mosse dell'animale e i nostri movimenti l'apice della tensione venatoria si raggiunge quando il pesce inizia il puntamento mentre nelle fasi precedenti il nostro istinto è dominato da un'attenzione vigile appena il muso si dirige dalla nostra direzione bisogna cercare un collegamento quasi telepatico col dentice seguire col fucile ogni mossa e appena siamo sicuri che arriverà a tiro di stendere completamente il braccio tirare il grilletto poco prima che dalla posizione frontale si giri su un fianco non lasciate che compie la rotazione totale del corpo il dentice è dotato di una velocità fulminea un attimo di ritardo nel tiro ed è già lontano irrimediabilmente perso credico bene e razzolo male l'asta inoltre percorre una strana traiettoria curva deviata verso la coda del pesce in viaggio verso un'altra secca metto in funzione l'ecoscandaglio a volte nel tracciato disegnato sul display appaiono delle grandi macchie scure a forma di pesce con indicazione della profondità alla quale lo strumento ha rilevato dei corpi solidi possono essere effettivamente dei pesci improvvisamente dietro il tracciato di questi due cappelli intorno ai 25 metri di profondità compare una grossa macchia nera leggermente sollevata dal fondo e la posizione classica del dentice la cernia infatti resta più vicina alla parete rocciosa mentre la ricciola si posiziona più in alto nella colonna d'acqua sono stimolato dalla dimensione del segnale a fermarmi per dare un'occhiata sono le 9.35 e il sole è già alto sull'orizzonte il grosso esemplare individuato con l'eco scandaglio non si è mai avvicinato ed anche i dentici più piccoli apparsi per un attimo sul pendio che precedeva i sommi si dimostrano diffidenti e nervosi la velocità d'avvicinamento di questo dentice mostra chiaramente che il riflesso del controllo è ben attivato ma la virata stretta a 90 gradi che c'è qualcosa che non va nell'appostamento e sinceramente non riesco a capire che cosa abbia fatto scattare questa diffidenza il dentice si allontana riattiva il riflesso del controllo ma la posizione di posta evidentemente sbagliata ricevo la conferma di questa valutazione dal comportamento di un secondo dentice che giunge la più lontano quindi non ancora influenzato dall'atteggiamento del primo pesce mi trovo a largo di Punta Capaccia tra Porto Rotondo e Porto Cervo la macchia che biancheggia sulla costa è l'hotel Romazzino fiora l'occhiello del consorzio della Costa Smeralda la secca sulla quale mi sto emergendo è composta da tre cappelli distanti tra loro non più di 100 metri su uno di questi sommi a 28 metri di profondità nel lasso di pochi minuti si sono succedute tre immersioni esemplari per comprendere la tecnica dell'aspetto dinamico siamo alla fine di agosto e sul fondo oltre alla madre di un palamito abbandonato trovo della mucillaggine lo scenario subacqueo in questi ultimi anni sta cambiando anche in Sardegna ed è sempre più frequente incontrare le pareti di coperte di fango o di queste forme algali infestanti come il solito una nuvola di castagnole mi circonda in un abbraccio che rivela la mia presenza non escludo che questo evento attiri i predatori dopo un rapido controllo dello scenario individuo un branco di dentici che l'obiettivo della videocamera non riesce ancora a distinguere e mi sposto lentamente verso il bordo di uno scalino nella roccia inizia il loro avvicinamento ma anche in questo appostamento c'è qualcosa che non li convince perché restano fuori tiro forse può averli disturbati la sagola dell'ancora calata a poche decine di metri di distanza anche questa operazione va fatta con criterio perché la catena nello scendere verso il fondo produce un rumore che può allontanare un branco di dentici inizia la seconda discesa verso il fondo dopo essermi spostato in superficie una ventina di metri più a destra rispetto alla verticale della prima immersione in questo punto c'è ancora della mucillaggine ma non ci sono le castagnole subito si avvicina un dentice solitario per esperienza sono sicuro che fa parte dello stesso branco individuato in precedenza la polarità la polarità del mio appostamento è la stessa dell'apnea precedente approssimativamente sud-ovest perché i dentici hanno dimostrato di aver occupato il lato ovest del cappello seguendo lo spostamento del pesce però ora mi trovo rivolto a sud si nota anche dalla luminosità della parte superiore dello schermo non escludo che tutta questa luce abbia provocato delle specchiate nei vetri della mia maschera la ripresa della mia sagoma in controluce vuole mostrare come il contrasto luminoso renda chiari e definiti i miei contorni e come questo fenomeno ottico migliori la percezione visiva immaginate come possa risultare alla vista di un dentice la specchiata al centro della macchia scura della testa dopo uno spostamento di una decina di metri in superficie ecco la terza immersione ora mi trovo sull'estremo nord-ovest del cappello rivolto con la stessa polarità degli appostamenti precedenti i dentici sono rimasti per tutto il tempo a perlustrare il lato sud-ovest del cappello questa volta si avvicinano in massa e posso valutare la consistenza di tutto il branco nonostante le loro buone intenzioni iniziali anche in questo terzo appostamento c'è qualcosa che non va e non si portano a tiro così seguendo la loro rotazione intorno alla mia posta lentamente cambio posizione ora mi trovo rivolto verso nord l'immagine del dentice rivela la specchiata delle squame sulla sua testa lo stesso bagliore che nella posizione precedente rivolto a sud senza dubbio producevano i vetri della mia maschera ho contato 5 ferme immagine prima dell'impatto dell'asta con il corpo del pesce ognuno dura un venticinquesimo di secondo quindi il tiro è durato due decimi di secondo nei calcoli riportati nello studio sui fucili ad elastici pubblicato sul mio sito www.dapiran.it l'asta parte a 30 metri al secondo per frenare a fine corsa a causa delle resistenze passive fino ad 8 metri al secondo quindi viaggia approssimativamente ad una velocità di 20 metri al secondo se moltiplichiamo questa velocità per il tempo del tiro ricaviamo la distanza dalla punta dell'asta alla quale ho colpito il pesce questa risulta di 4 metri come si poteva capire anche ad occhio e misurando la lunghezza della sagola e dell'asta il dentice pesa 4 kg e per questa cattura ho impiegato un'asta da 6 mm di diametro si nota la livrea a grosse strisce verticali scure che il dentice indossa quando resta immobile è un riflesso automatico non cosciente che scompare dopo la morte del pesce le scene che avete seguito fino a questo momento si riferiscono alle catture realizzate nei mesi di agosto e settembre dell'estate 2000 e sono state girate con la tecnica della videocamera impugnata nella mano sinistra in realtà il progetto di realizzare un documentario sulla pesca all'aspetto al dentice era partito con l'intenzione di impiegare un'attrezzatura completamente diversa solo per caso preso dalla disperazione mi sono trovato a filmare con questa tecnica che a molti potrà sembrare difficile e scomoda avere la mano sinistra impegnata a stringere la custodia per esempio non permette di stringersi il naso per la compensazione in questa operazione però io muovo semplicemente la glottide e non uso le mani spostarsi sul fondo invece è stato molto più laborioso perché l'urto di un ostacolo col braccio sinistro provoca un sobbalzo nell'immagine e il filmato si deve buttare avevo deciso di realizzare la ripresa delle catture da solo senza valermi di un operatore per le difficoltà incontrate nel video l'agguato profondo come tutti i predatori il dentice è un animale sospettoso e diffidente non si lascia avvicinare facilmente da una coppia di subacquei e in ogni modo trovandosi di fronte a due persone il suo comportamento cambia la documentazione alla presenza dell'operatore avrebbe offerto immagini sicuramente più spettacolari ma un'idea falsata della tecnica di caccia con l'operatore alle calcagne avrei dovuto impiegare una variante del metodo di pesca che impiego quando sono da solo i brevi spostamenti sul fondo sono impossibili da eseguire contemporaneamente da due subacquei senza che il dentice riesca ad individuarli in questo aspetto per esempio quando mi sono accorto di aver sbagliato il punto di posta perché i dentici erano sull'altro lato del cappello mi sono mosso con eccessivo slancio verso il gradino giusto compromettendo tutta l'azione di caccia questi errori alla presenza dell'operatore si amplificano con la conseguenza che i pesci restano sempre fuori tiro in un primo momento il lavoro di ripresa subacquea era partito con una microcamera montata su un casco avevo perso diverse ore per determinare l'inclinazione da dare all'obiettivo e la posizione che doveva assumere la testa per centrare la scena di pesca i movimenti del capo per individuare il pesce nonostante i miei sforzi per rallentarli si sono rivelati troppo rapidi e le riprese con questa tecnica sgradevoli da vedere l'esperimento successivo invece si è dimostrato più gradevole anche se limitato nell'inquadrare lo scenario di caccia ho montato la microcamera su un tutore che fasciava lavando braccio questa è la custodia della microcamera con la quale ho girato le prime riprese di cattura al dentice per poter fissare la custodia ai vari supporti che ho impiegato nella mia esperienza di ripresa subacquea ho costruito un tubo nel quale veniva alloggiata la microcamera questa poi veniva fissata a un tutore in fibre di carbonio che montavo sull'avambraccio così microcamera obiettivo della microcamera e il fucile si trovavano sullo stesso asse di puntamento con la pedra la microcamera trasmetteva le immagini ad una videocamera racchiusa dentro questa custodia questa custodia come avete visto nelle immagini dove io documento il montaggio della microcamera montata sul casco veniva fissata in cintura esattamente come in più in un primo momento per seguire la qualità delle immagini e l'inquadratura avevo montato un monitor per controllare l'evoluzione delle scene di caccia poi alla fine mi sono abituato a mirare con l'obiettivo esattamente come miro con il fucile con l'obiettivo con l'obiettivo con questa tecnica di ripresa ho documentato alcune catture realizzate nel mese di luglio che vi propongo con qualche commento siamo ai primi di agosto e non sono ancora le 8 di mattina è l'ora del passeggio delle murene ma non solo per loro con strategie diverse anche il dentice da qualche ora è alla ricerca di una preda si ripete il comportamento già documentato in altre scene il pesce sale per captare i segnali sonori rinviati dal mio corpo e poi punta la sorgente del rumore come in tanti altri appostamenti mi sono sdraiato sul bordo di un gradino nascondendo buona parte del corpo dietro la piccola asporgenza della roccia questa volta non aspetto che il dentice si giri di fianco è già troppo vicino e c'è rischio che cambi posizione di scatto compromettendo la cattura così preferisco un tiro frontale e l'unculo dell'arma fa arretrare violentemente il braccio sfocando la scena per tre fotogrammi è un altro limite di questa tecnica di ripresa che si aggiunge a quello di un campo visivo più angusto di una definizione scarsa e di una riproduzione dei colori poco fedele questa invece è una scena di repertorio girata con una videocamera digitale inserita per creare uno stacco tra una cattura e l'altra si nota subito la differenza nella qualità e nella definizione delle immagini quattro giorni dopo mi trovo sulla stessa secca quasi nello stesso punto ma un'ora più tardi quando un branco ha colonizzato una secca è facile incontrarlo sempre sullo stesso lato semplificando la scelta del nostro appostamento il comportamento del gruppetto di identici è identico a quello di giorni precedenti probabilmente appartengono allo stesso branco anche la taglia coincide come nella volta precedente risalgono dal fondo verso la parte alta del cappello l'anno scorso per un certo periodo è impiegato un'asta da 6 mm di diametro con la doppia letta con i dentici di taglia modesta cioè fino a 4 kg ho avuto dei buoni risultati per i pesci più grossi invece la doppia letta ha dimostrato una scassa penetrazione e il diametro dell'asta si è rivelato insufficiente piegandosi in certi casi fino a diventare inutilizzabile sono le 5 e mezza di mattina l'obiettivo inquadra Punta Marginetto estremità nord-est dell'isola di La Maddalena da pochi anni è stato istituito un parco naturale nell'omonimo Arcipelago con le contraddizioni di tutti i parchi marini in Italia i pescatori professionisti li possono pescare sempre ai pescatori direttanti è permessa la pesca su quasi tutto il territorio protetto dietro il pagamento di una gabbella mensile mentre i pescatori subacquei anche pagando un'identica tassa sono autorizzati alla pesca solo negli intorni dell'isola di La Maddalena come vedete tutto è proporzionato all'entità del prelievo chi reca più danno è libero chi ne fa meno è limitato e paga ma i fondali di Punta Marginetto lo fanno dimenticare queste incoerenze soprattutto quando offrono queste scene appena colpito il dentice si è rapidamente diretto verso il fondo cercando un rifugio tra le rocce la mia reazione a sua volta è concitata perché voglio evitare che il pesce si infili in qualche spaccatura e facendo leva contro le rocce riesca a disarpionarsi la rapidità dell'intervento è proporzionata alla molle del pesce bisogna agguantare immediatamente la sagola per controllare la reazione tutto si risolve nel migliore dei modi ho colpito il dentice dove da anni ormai mi esercito a mirare questo pesce appena dietro l'opercolo il più vicino possibile alla linea laterale questo invece è uno dei due scogli del mortoriotto alcune miglia a largo della costa nel nord est della Sardegna proprio di fronte a casa mia questi monoliti di granito poggiano su una base a 25 metri di profondità con picchi di roccia che in alcuni punti distano anche qualche centinaio di metri dagli scogli è una zona di passaggio per le ricciole e vi stazionano sempre diversi branchi di dentici che a fine stagione poi sprofondano e diventano imprendibili siamo a fine luglio e i dentici sono ancora a quote accessibili quando arrivano molto vicini al fucile preferisco tirarli di tre quarti l'asta entra di traverso nel grazie a tutti grazie a tutti